Scusate, a Catino? Ma a Catino? A Catino, sì. Ma tanto che non abitano più qui. Tanto? Eh, lui, poverino è morto. E la signorana sta in una struttura. E Maria Giulia? La nipotina? So che la va a trovare. Ma non sta adesso? Ma non stava a quelle case occupate dove c'è sta il mercato? Può essere. E' case occupate? Lungo fiume, in fondo in fondo. Travesse il ponte, vai dall'altra parte e lì c'è il mercato. Grazie. Dottore, non mi pare scemo. A me mi pare proprio lui. Dottore, non mi pare. Dottore, non mi pare. Dottore, non mi pare. Dottore, non mi pare. Dottore, non mi pare.